Abbiamo deciso di organizzare, visto comunque tutti gli incidenti che ci sono ultimamente, soprattutto quest'estate, ce ne sono stati davvero tanti, era già preventivato sinceramente. Abbiamo deciso comunque di organizzare questo evento sulla sicurezza stradale, per sensibilizzare tutti, adulti, bambini, a una guida più sicura, per sé e per gli altri. Come ho scritto nei vari post, nei vari comunicati stampa, quando abbiamo un mezzo a nostra disposizione, che sia una macchina o un monopattino, abbiamo con noi un'arma. Quest'arma diventa molto pericolosa se non viene utilizzata, se questi mezzi non vengono utilizzati bene, come dicevo, diventa proprio un'arma. Questo evento coinvolge tutte le forze dell'ordine, quindi sono stati coinvolti i vigili locale, la polizia locale, la polizia stradale, i vigili del fuoco, quindi abbiamo cercato di coinvolgere davvero tutti, anche l'ACI e l'associazione ELPO di promozione sociale per quanto riguarda i primi interventi che devono essere effettuati in caso di incidente stradale, perché molte volte ci troviamo ad assistere ad un incidente, ma non sappiamo come comportarci, quindi grazie a questa associazione capiremo un po' meglio come poter aiutare le persone che magari in quel momento sono in difficoltà.